ok arrivata let's go due minuti eh sì perché sì che devo fare adesso è come street view devi allora tu puoi andare in giro per la mappa devi controllare i cartelli la lingua le targhe e tutto quanto per capire in basso a destra in alto in alto a destra il timer c'è scritto time left prima che scatti il timer tu devi mettere in basso a sinistra in basso a destra scusami nella mappa devi mettere la posizione anche zoomando con la rotellina ovviamente la mappa la puoi zoomare devi mettere secondo te in che parte del mondo è il più preciso possibile hai ora più o meno un minuto e venti ok no 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 sono nel gioco ho capito ho capito ho capito mi piace è bellissimo questo gioco ma finché vince sempre luis così tanto bello è una speedrun ha vinto tu collegio io li faccio tutti a nastro non vale non vale perché puoi usare la scusa li ho fatti tutti a nastro ecco perché ho perso no faccio comunque cacare così poi ovviamente non posso cercare informazioni su internet ovvio è ok 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 adesso no chat non è imbrogliato non fate gli scemi ma posso metterlo come va ragazzi lo dovevo mettere prima o posso metterlo ancora no è perso ma devi mettere entrerà ok 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 lavoro giro di riscaldamento resto è un test giro di riscaldamento giro di riscaldamento sembrava gli stati uniti e messico questo dove avete messo infatti ho messo messico io ho messo il passo invece era io niente ero zone spagnole credo l'uomo invece io avevo azzeccato alla perfezione dove era cercando tra le strade mi sono accorto che il tempo era scaduto oi 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 io sono al terzo adesso eh ma come al terzo no no anche non fare il try harder dai per favore aspettaci vai sono a seconda adesso posso posso fare play next round sì 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 fai 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 io ho già capito dove siamo sì qua è facile tutto a posto allora spure bar ok ok ma porco diaz scusa ma perché fammi uscire cazzo di nashville e non perdere tempo ragazzi il terzo l'ho fatto come se fossi luis ragazzi poggers poggers vabbò ci siamo dai ci sono fatto dai vi aspetto vi aspetto vi aspetto non è che guardo allora io sono chiesto di un negozio di porcellane ok per 40 secondi sono finito in un negozio di porcellane il negozio di porcellane era intrappolato all'attenzione perché io mi muovo molto velocemente sono intrappolato in un negozio di porcellane era intrappolato era il non trappolato si piccolo ora dicono la chat dice piccolo sguardo che ter propagatore del covid 19 ma ero intrappolato in un negozio è una donazione ti ha dato la soluzione stavo guardando la stream perché avevo già finito il mio tour di che merda stai parlando ragazzi la ritrappolato in un negozio di porcellane io dove stavo ci sei entrato si il tennessee nashville allora vai con la prossima io vi aspetto perché l'ho già fatta tre due aspettate abbiamo tutti la stessa zona yes ogni round si 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 tre due uno via ok io vi guardo sono molto curioso sai sembra qua qua e dove si vanno proprio i giovani in vacanza in estate giovani italiani cazzo cazzo oh ok 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 andrea nello tu ci sei? si oh godiaz allora eh allora c'era sul pullman che stavi guardando tu nella parte bassa a destra c'era scritto eh trasferto pubblico di Medellin quindi sono andato dritto Medellin è la prima volta che trovo una cosa bella sono troppo contento brah io sono scemo proprio io sono proprio scemo io ho letto mezzo mezzo spagnolo mezzo francese ho detto sarà nella French Guiana e infatti e infatti l'ho messo nella Guiana neanche di cosa stai parlando io ho letto letteralmente vai lui bogotà credendo fosse più importante di Medellin e invece era Medellin ma c'era il pullman quello grigio non so se l'hai visto che c'è se vedo una cosa scritta in spagnolo metto Madrid ecco vabbè questa è la mia tecnica pure c'era scritto sul pullman sono molto contento andiamo avanti amici 3 2 1 ok già ho capito dai ma che cazzo di qualità sono sti cartelloni buona una strada qua si chiama Avenida Morte ecco vaffanculo 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 minchia ti leggo piccoli ciao parlavano in portoghese eh parlavano in portoghese non è che devi metterlo come me nella guiana francese ma c'era scritto Guatemala mi dicono c'era scritto Guatemala ah no non ho visto io ho messo una roba in Sud America a caso più un po' sull'alto vai con l'ultimo o il penultimo vai ma com'è Pitbull dice Caglioccio penultimo non so se è penultimo o ultimo 3 2 1 vado in un parcheggio del cazzo in un parcheggio del cazzo questi a Brusciano in provincia di Napoli ma ci sono i bambini che non mi sembrano di Brusciano 19 29 oh si ci sta comunque parlare tra di noi eh e cercare di spostarci Pinerolo ragazzi i bidoni hanno l'immondizia dentro ok oh 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 mmm 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 fanculo fanculo boggers boggers vai questo era il secondo round dai è il primo round io vado finisco su una nota positiva grazie via gg200 i best italian gioco essere player in the world io ho fatto 900 metri all'ultimo davvero mh mh io solo io nell'ultimo ho fatto tipo 3.000 e qualcosa punti che ho fatto buono anche tu vicino e gli ultimi e quindi negli altri round ho fatto niente totale in sudamerica ammazza eh perché è grosso eh si è poi tutto uguale vai facciamone un altro così due minuti e uno io vado un bacione io mi muto quando si gioca così no lei parli intanto Dendo fa solo versi fa ah ah no no guai oh non è che si capisce tanto ok è veramente un po' bello questo gioco è bello eh si facciamo sempre due minuti o un minuto e mezzo no due minuti due minuti uno via e lo prova a cercare dove stanno le guida no no totalmente dai non credo che potrebbero aiutarmi nel trovare la la città la località grazie mille ti ha parola tanto amore a te allora 2500 va a cercare adesso mi Ok Conti punti hai fatto, Ello? 2000 qualcosa 2600 Come va? 90 metri Davvero? Non è vero Tu quale sei? Non l'hai fatto? Dove l'hai messo? In Slovacchia Ero in Serbia Tu dove l'hai messo? In Serbia a 66 km No Sì, tu hai fatto 3815 punti Oh cazzo Ma possiamo No io ho fatto Che ho messo in Bielorussia Cacca Io stavo per metterlo Lì Perché ho pensato a Bolden Bankrupt E poi ho detto no E ho pensato all'equatore Agli alberi che c'erano Io ho visto scritto in tipo Cirillico che era Non lo so Io ho visto le bandiere Ma mi sono confuso Possiamo partire Possiamo partire 3, 2, 1 Via Grazie 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 a te Bellum L'incoerenza è come base di vita Cosa ne pensi? Penso che sia una cosa giusta Anche se ormai mi hai scammato per tre volte sappi che te se vuole bene Prendi libro Bacioni stellari 3.000 punti 4.986 4.986 Let's go Novo round Novo round Per denman Io sono partito raga Ok Ok Successo Ok Centro direzionale No Però stiamo là più o meno Grazie mille Grazie Baromic 5 Come va? Tutto a posto Che cazzo? Cosa? Mi ha scammato raga All'improvviso mentre stavo Non me l'ha fatto mettere Non ci credo Comunque mentre stavo per mettere Guess Che è partita la pubblicità Aspetta 5 secondi O abbonati Oh no Il tempo Dite voi che ho finito il tempo Ok va bene No ho finito io L'ultimo round Ho finito io il tempo Comunque Quello fa mi ha vado Quanto sono stronzo Stavo facendo una festa Accanto a casa mia Sì Grazie Il gioco consiste nell'indovinare la località esatta Già di tutto Il turco Il turco è vero È vero È già turco Grazie mille Ancora Faro mic Tanto amore Ok Oh Comunque sta partita mi sono impegnato Peccato che non ho messo Cioè che mi sono scammato Dei punti Non cliccando su Guess Eh vabbè tanto sono quelle Sono le prime di prova Un chilometro Un chilometro Un chilometro Bene Sì anch'io più o meno Ma che ho fatto io 491 Grande Ragazzi Si parte col prossimo Prossimo dai 3 2 1 Oh What the fuck No Madonna Sand B è stato un piacere ragazzi no mi ami avete fatto raga si non avrei vinto comunque ok io sono andato meglio rispetto a prima mi sento meglio con me stesso sincero no vabbè poi la tua seconda partita hai fatto diecimila punti colmi il miso auto scammato un 3.000 punti accetto 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 questi questi risultati sono andato in spagna mamma mia ho detto tutto sudamerica come nelle altre non è colpa mia se erano origini sudamericana e me lo serve devi sempre far pesare no ti sto provando a consolare anche a te nello il sudamerica che frega ma anche c'è un corso per le strade di puerto monte in cile e c'era un certo punto c'era scritto cile puerto monte ragazzi c'è una festa se non le trovo male uffa c'è una festa che cosa è un pazzo e va bene ragazzi io vi saluto non vuoi più giocare no no mettiamo allora tu ne hai vinte due io e Nello ne abbiamo vinte zero adesso mettiamo italy e vediamo va bene se vuoi mettere ancora questa farsa delle città del cazzo ed in giro per il mondo dove magari tu le scegli va bene continuiamo no no facciamo l'Italia l'Italia Italy ci sono diverse versioni Italy by GeoGuessr Italia Italy se vuoi facciamo città città d'Italia va bene va bene ho paura che città d'Italia sia sento dei catti delle sirene scusami facciamo Italia ragazze c'è una festa del terrazzo di fronte e non posso uscire di casa e Luiz tienimi qua saldo alla scrivania che non può che mi saldo qua e metterti la cera nelle orecchie c'è una festa facciamo Italia Italy vi invito due minuti si può muoversi ci si può muoversi e si inizia tra 3 2 1 ok ci sono non so già perfettamente dove siamo siamo a Bolgheri eh ti sento ah o forse mi stai no no esatto esatto non lo sai tanto non sai dove è Bolgheri invece si la butto eh non lo sai non lo sai non lo sai ecco non lo sai ma tu hai fatto quanto metri 130 metri io ho fatto un chilometro ma non ho ascoltato il tuo bolgherismo sono arrivato fino a un cartello dove c'era scritto bolgheri ma ho sbagliato ma come hai sbagliato a dirlo sì però alla fine l'avrei trovato ma io un secondo l'ho trovato tu hai riconosciuto il viale alberato? te l'ho detto che sono una persona che ha degli istinti di non mi ricordo come si chiama l'arte di orienteering ma poi tu in italia sai qualsiasi chi cazzo conosce bolgheri vabbè che ho pensato proprio se conosce bolgheri si tratta della toscana livorno l'orata penso che ho fatto tutti dei collegamenti ah lo trascino sul disco mello ti ho ripescato no raga io ho chiuso così chiudendo geogastro ho chiuso tutto vi volevo dare la buonanotte ah buonanotte nel donna è stato un piacere un bacione è stato bello un bacio a te bello un bacio a te un abbraccio ciao ciao bellissimo grazie per essere passato next round next round via bello 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 questo non hai quality gameplay com'è andata ogni bene lo so visto anche a me quanto hai fatto 5999 punti non è vero ne ho fatti 850 e c'eravamo pure già stati in quella in quella via lì con lo stesso gioco ti ricordi no tipo una settimana per sicuro ci va bene andiamo avanti andiamo avanti grazie bastardina 3 2 1 let's go non ho visto anche lui let's go let's go dai sto giocando bene 10 metri eh ma anche lui spara 10 metri questo round sarà pari ho fatto il massimo dei punti com'è andata massimo c'è fatto 5000 si lo vedo non mi chiedi com'è andata anche tu hai fatto lo stesso no ho fatto 4 9 9 9 hai messo l'altra stazione no l'ho messo dietro al palazzo invece che nella strada qua ci si e luis qua è questione di centimetri eh sì questo sì perché in italia il punteggio è più è più tenso mi dicono luis 100 chilometri no 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 luis 29 metri tu probabilmente hai fatto 10 o meno 9 metri avrai fatto 10 ci siamo eh yes let's go 3 2 1 via ok e L'ho persa, l'ho persa, l'ho persa. Montagne vecchissimi, siamo negli appennini, Timao, dove cazzo è Timao? O siamo in Sardegna? Siamo in Toscana? Siamo qua. Com'è andata? 300 chilometri. 53 chilometri. 3584. Andiamo. Andiamo. 3, 2, 1, via! F, O, Megadance in DChat. Ok. 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 Io ho perso, ho perso. Falta qualcosa. Dove l'hai messo? A 20 metri. Tu? Dove l'hai messo? Non l'ho messo. Non mi piace. Non vuoi più giocarci? No. Vuoi un abbraccio invece? Mi sto abbracciando. Allora. 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 Allora.